Consiglieri per un giorno tra i banchi dell'Aula di Via Verdi sono i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Imbriani degli Uori e anche quest'anno protagonisti del progetto di educazione civica che li vede nei panni delle istituzioni. L'iniziativa è realizzata con l'associazione La Fenicia Volontari nel Mondo e vuole sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole. Da tre anni portiamo il Consiglio Comunale per avvicinare i ragazzi e i bambini all'amministrazione comunale anche per vedere dove si decide le sorti della città e quindi parliamo di cittadinanza attiva e poi lavoriamo sulla legalità. Accolti dal Vicepresidente del Consiglio, Fulvio Frezza, gli studenti hanno simulato una vera e propria seduta consigliare nominato sindaco e assessori, documentato disagi e comportamenti di illegalità nel proprio quartiere e formulato una serie di domande. L'obiettivo è dare il buon esempio con il lancio di una campagna di sensibilizzazione portata avanti proprio dai ragazzi. È un progetto attraverso il quale noi cerchiamo proprio di portare ai ragazzi questo valore, di coinvolgerli attivamente nelle proposte, nel poter vivere quotidianamente un territorio, una città, che è loro come è nostra e quindi riponiamo in loro le speranze future affinché possano operare meglio di quelli che c'erano prima e meglio magari di quelli che compreso me ci sono adesso. Speriamo che le loro idee possono essere anche incisive per quanto riguarda il lavoro degli adulti che a volte non è tanto concreto come quello dei bambini.